Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparo e Soccose. I miti sulle armi da fuoco stentano veramente a morire, sarà che un ambiente molto ristretto, dove a volte caproni possono dire la propria e non c'è molta gente a darli conto. Uno dei miti più stupidi in assoluto che viene ripetuto continuamente dai più vecchi come dai più giovani riguarda una serie di munizioni, in particolare questa cosa nasce col 556-223, che sarebbero state progettate per ferire ma non per uccidere, perché se uccidi uno è morto. Se invece è ferito, ci sono almeno altre 3-4 persone che se ne devono occupare per evacuarlo. Se vi sembra un'idea completamente idiota potete anche smettere di guardare questo video, ma se credete che questa cosa abbia senso, rimanete. Ci sono tante di quelle cose sbagliate con questa idea, sia in pratica, sia in teoria, sia storicamente parlando, che onestamente non so da dove iniziare. Il discorso qui vale ovviamente per la 556, ma vale per tutte quelle munizioni, potremmo chiamarle intermedie rispetto a quelle da piena potenza per uccidere. Sulle munizioni si fanno tantissimi test. Gli eserciti quando vanno adottare queste cose, quando scelgono una munizione, sanno che dovrà durare spesso per decenni. E vi assicuro che queste scelte sono fatte con estrema attenzione e in estremo criterio. In nessuno, nessuno di questi test, ho mai visto, si è mai visto, parlare di questa cosa. Anzi, l'esatto opposto. Si cerca la massima efficacia terminale balistica. Per l'esercito è importante fornire ai propri soldati una munizione che sia efficace. E tantissime munizioni sono state sviluppate in questo modo. Per esempio, se cliccate in quest'angolo, troverete un video su come è stata in passato sviluppata la .45 ACP, iniziando proprio dai soldati che si lamentavano che i loro revolver calibro .38 non fossero abbastanza efficaci. Quindi hanno sviluppato una munizione che potesse, in teoria, abbattere l'avversario del primo colpo. Alla faccia del ferirlo anziché ucciderlo. E sempre si è sviluppato palle, caricamenti, combinazioni di esse, per essere più efficaci possibili. Nessuno durante uno sviluppo di queste cose ha mai pensato rendiamo la nostra munizione meno efficace perché così il ferito va aiutato. I combattimenti a fuoco sono estremamente caotici, violenti, brutali. La maggior parte delle volte, però, i soldati che sparano neanche vedono a cosa stanno sparando. Si va nella generica direzione dei bastardi e si dispende un quantitativo pazzesco di munizioni nel fare ciò. C'è una disproporzione pazzesca, se si vedono le statistiche, tra le munizioni sparate e i soldati effettivamente nel nemico uccisi. Ah, un'altra cosa importante. È importante che la munizione abbia potenza, ma lo scopo del combattimento non è uccidere gli avversari, non è ferirli, è batterli. E munizioni piccole come la 556 sono state pensate per essere letali, ma leggere da trasportare. Perché ne puoi trasportare di più? Torna la nostra amatissima logistica. Sono, come ogni munizione, perfettamente letali quando colpiscono le parti vitali. E anzi, ci sono discorsi su come, per esempio, quando una 556-1223 impatta a causa dell'alta velocità e il fatto che è estremamente instabile aerodinemicamente inizia a ruotare e crea una ferita più grande, più letale tendenzialmente. Nessuno sano di mente dota i propri soldati di un'arma che è meno letale per tentare di ottenere questo scopo di ferire. Per farvi capire ancora quanto è stupida questa idea, pensate che, in realtà, i morti e i feriti in guerra moderna, come nel passato, non sono tanto per le armi leggere. Ci sono artiglierie che fanno la gente a pezzi, aerei, carri armati e quant'altro. Quelli sono le spine dorsali del far male all'avversario. E nessuno di questi sistemi, vi assicuro, è progettato per ferire piuttosto che per uccidere. È progettato per farli fuori più rapidamente e più efficacemente possibile. Ma anche se avessi un soldato davanti, uno che spara, per esempio, così sono gli addestramenti tendenzialmente, si spara finché non va giù. Non è che pensi, ah, ora gli sparo ma lo ferisco perché sono onorevole, ma così gli altri amici lo devono venire a prendere ed aiutare. Cioè, è un'idea così stupida che neanche... È un'idea così stupida che neanche riesco a ordinare i pensieri nella mia mente per affrontare questa cosa. Ammesso che in uno scontro a fuoco ferire un soldato nemico piuttosto che ucciderlo sia un vantaggio perché i suoi colleghi lo devono andare a recuperare, strategicamente parlando, è un'idea veramente stupida. Infatti, la maggior parte dei feriti, in realtà con la medicina moderna, sopravvive. Moltissimi di essi tornano nelle file dell'esercito, sia come combattenti che come comandanti che come istruttori. Insomma, stiamo regalando al nostro avversario, strategicamente parlando, un soldato inveterato. Non ha così tanto senso, non credete? Ma ripeto, la guerra è caos totale, è far fuori gli stronzi laggiù più rapidamente, più brutalmente possibile per ottenere il proprio obiettivo tattico, strategico, operativo. Eh, ma io ho fatto la naglia al mio istruttore e mi ha detto che così, non ne dubito delle troiate che alcune persone raccontano. Ma se pensate che sia così, trovatemi un test di munizione dove specificamente si dice di preferire il ferire rispetto all'uccidere, fatemi vedere specificamente delle tattiche o di un manuale di fanteria dove si dice che è meglio ferire che uccidere, eccetera. La guerra è brutalissima e la scelta delle munizioni riflette questa cosa. No, il 556 non è fatto per ferire.